Lei è De Gemelli? Sì, come lo sa? L'ho indovinato. Dovrebbe fidarsi di più dei suoi sentimenti. Smetta di riflettere tanto. Oltretutto la stanca. Di che segno è lui? Del toro. Oh, siete assolutamente incompatibili. L'astrologia va presa per quello che è, ma... Lui è troppo ambizioso per lei. Vuole possedere tutto quello che vede.